La Fiorentina di Rocco Commisso attraverso una nota ufficiale non le manda a dire e rivaluta la partecipazione alla gara per l'area Mercafir, dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio. I problemi sono sostanzialmente due, i tempi e i costi che potrebbero far riemergere l'ipotesi del restyling del Franchi o comunque la valutazione di altre opzioni. Secondo la società Viola è difficile realizzare uno stadio in quattro anni e la base d'asta per l'acquisto dei terreni, valutata da una società esterna per 22 milioni di euro, è troppo alta. Non posso pronunciarmi su una gara pubblica aperta, posso soltanto ringraziare il Consiglio Comunale che ha assegnato un vero record approvando una variante urbanistica in meno di tre mesi, ha detto questa mattina il sindaco di Firenze Dario Nardella, facendo anche un confronto con lo Juventus Stadium di Torino. Dico che Firenze è l'amministrazione più fast d'Italia. Torino ha trasferito alla Juventus il terreno nel giugno del 2002, la prima partita ufficiale è stata a settembre del 2011, nove anni. Noi in quattro anni siamo in grado di fare tutto, sono orgoglioso del lavoro che ha fatto il Consiglio Comunale, che ha fatto la Giunta, che hanno fatto i nostri tecnici e quindi ora aspettiamo soltanto di vedere se e quali saranno gli esiti della nostra gara.